bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono TheMambaBoy e oggi siamo tornati con un cavolo di video, da quando è che non vi faccio un video? sono tornato su Until Dawn, mi pare che si dica così comunque ragazzi questo gioco mi appassiona tantissimo volevo portarvelo e ve l'ho portato, quindi ci guadiamo il video tra l'altro avete visto che dietro di me c'è una nuova postazione perché l'altra era vicino al muro e era troppo oscurata quindi ho deciso di fare così, adesso tra l'altro c'è anche la luce del giorno se avete notato questo è un joypad della playstation 3 e voi dite come cazzo fai a giocare a Until Dawn sulla playstation 3 se non è uscito? è facile ragazzi, allora, c'è solo per playstation 4 allora, io ho fatto una cosa che non so se sia del tutto legale, comunque ho fatto praticamente ho preso, ho visto su youtube un video dove mostrava come trasformare la propria playstation 3 in una playstation 4 e si tratta, se volete vi faccio un video, credo che sia del tutto legale perché è semplicemente un aggiornamento della playstation quindi un giorno vi mostrerò, bene direi di partire cominciamo no, subito, subito così allora, facciamo impostazioni, allora andiamo a vedere, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene tutto sì, può andare bene, è tutto sottotitoli, sì ehm, testo a lato non si è statissimo, mi se frega, cominciamo effetto farfalla l'impercettibile battito di aria farfallogico provocare una devastante organo settimana di distanza ah sì, il basso delle ali delle farfalle ragazzi se vedete una farfalla scappate perché se no morite la più piccola decisione può stravolgere il futuro sì, va bene la 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 le tue azioni la sottotitoli sì, va bene cioè, intanto ci hai fatto leggere assolutamente non serve che io sto qua a leggere tutto ragazzi, oggi esce Until Dawn mentre domani credo quasi sicuramente uscirà Far Cry Primal oppure in teoria dovrebbe uscire oggi Far Cry Primal invece esce domani esce domani intanto non c'è il centro che c'è il blu esce domani oppure esce lo spacchettamento di FIFA perché già ragazzi sono usciti i nuovi TOPS e io ho speso un po' di soldi bene vi dico già che il primo video sarà pieno di casino faremo veramente poco però spero che ma già cominciamo bene già con la città oh my god oh my god I can't believe you actually did they shh 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 don't you guys think this is a little bit oh come on she deserves it it is not her fault that she has a huge crush on me Hannah has been making the moves on him I'm just looking out for my girl Em just because he's class president doesn't mean he belongs to everyone Mike is my man I am I'm not anybody's man whatever you say darling si qua sono matti questa se ne va per i cazzi sui Hannah Hannah she's here shh 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 Mike 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 it's Hannah hey Hannah come ha detto cercherò di parlare il meno possibile del cinema che fu no non capite niente e poi si gli ho messi apposta hey vedi questo? il padre diceva solo noi questa settimana parlerò solo quando ci saranno le canzoncine la di sottofondo perchè se no mi fanno il copyright parlerò sopra oh mamma mia comunque spero che questo video piaccia perchè se piace lo mando ancora avanti ci farò faremo faremo della buona strada jeremia fuck jesus josh once again brother you've out the house no questo qua è sbronzo foglietto foglietto sei davvero sexy con quella maietta ma scommetto che lo sei di più senza vieni nella stanza degli ospiti alle alle due questi sbomano le due fanno una gara in moto in due speravo che venisse questo qua in tutto se la ride entra in questa parte oh c'è che parte oh ma c'è che parte oh ma c'è che parte noo mi dispiace un po' per lo scherzo che è stato rovinato ma mi dispiace anche perchè non lo fate è un scherzo stupido Anna! Josh! Josh! F***! Io non mi sono fatto spoiler, ho visto solo un video di uno youtuber, credo fosse italiano, però siccome nel video non parlavo, dove notrava tutto il scopo di gioco. Ma non faceva gameplay, quindi mi sono scollerati, ho solo visto come si gioca. Praticamente bisogna scegliere delle azioni quando loro ve le danno ve nemmeno due, voi ne dovete scegliere una. È un bel gioco, mi piace tantomeno questo genere di gioco. Oh, s***! Veloci, veloci! Seguile loro! Questa è matta! Da negare! S***! 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 Dammit, Hannah! Onde sei? S***! 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 Anche delle erne! F***! Sembra di via! Ma neanche di via! S***! Questa è matta perché è uscita per uno scherzo del cavolo sotto il bosco, sì, sotto il bosco. Nel bosco sotto le leve. S***! 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 la morte ah è nero quindi qualcuno qui morirà i due indigeni credevano che le farfalle fossero protettissime in premissione ogni paese di tommeno predice morte, guida, farita, pericolo, fortuna noi abbiamo solo uno o meno qui probabilmente questa morirà gli effetti farfalla non so ne ancora cosa sono questi effetti farfalla ma questo gioco parla di effetti farfalla ma non ho ancora visto neanche uno di che effetto farfalla dove cazzo si sarà mai cacciato questo dai eh oh dove cazzo sei dove che stava che stava c'è in maniche corte sotto la neve ma chiuderti nel bagno c'è in maniche corte sotto la neve c'è in maniche corte sotto la neve c'è in maniche corte sotto la neve di occhio che questo terra nel contempo caccia dell'anque caccia dell'anque caccia dell'anque caccia dell'anque caccia dell'anque E' il punto ragazzi che non mi fanno fare niente perchè tutto è una cazziglia Questa cosa la decisione è giusta Ecco questa è quella che ci si è ciò Quindi o salvavo la ragazza La analista No dove siamo? Cazzo è quello Cosa successe? Dove siamo? Non ho capito niente Il pasto è sotto il nostro controllo Tu devi accettare questo In order to move forward Ma c'è libertà In questa rivelazione E tutto ciò che facciamo E tutte le decisioni che facciamo Cosa 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 Questo è uno di quei ciarlatani ragazzi A quanto stiamo A quanto stiamo Questo mi fa ridere Questo è solo un gioco Beh, sembra che stiamo fuori di tempo per questa session Ma stiamo arrivando in pronto E' un psicologo E' un psicologo Ragazzi, questo episodio può finire qui Questa è la prima parte Se vi vi è piaciuto lasciate un bel pollicione Spero veramente arrivare ai 10 like Lo so che non faccio video da tantissimo tempo Però credo che posso meditarmeli Per questo gioco ragazzi Se vi piace commentate Se non vi piace lasciate un dislike Noi ci vediamo nel prossimo episodio Bella